Non c'è più rispetto, neanche tra di noi. Lucio, 31 anni, parliamo di crisi e vedete inquadrato il papà. Lucio, 31 anni, decide di togliersi la vita. Io ho fatto tanti servizi giornalistici nella mia vita e credetemi, questo credo che sia uno dei più delicati, nel senso che il messaggio che può venire fuori da questa conversazione può anche essere frainteso. Allora noi vogliamo invece tranquillizzare proprio quelle famiglie che vivono disagi simili a questo, cercando di dire ai genitori soprattutto di stare vicino ai figli e ai figli di aprirsi di più con i genitori, con i fratelli, con gli amici, cercare di dare dei segnali, di far capire il proprio disagio. Questo è quello che vogliamo dire con questa intervista e con questa trasmissione. La trasmissione si chiama Io la penso così e adesso ci dirà come la pensa il signor Valerio che purtroppo ha visto un figlio sfuggirli all'età di soli 31 anni. Un figlio che ha deciso di dire basta, lo ha deciso naturalmente con la sua testa, ricordiamo che parliamo comunque di un uomo di 31 anni, non più un ragazzino di 31 anni, e se un uomo per colpa della crisi arriva a un gesto estremo, noi dobbiamo cercare di evitare che altri commettano l'errore che ha commesso Lucio. Anche se dal cuoricino che avete visto inquadrato dal nostro cameraman capite che lui lo ha fatto come fosse un gesto d'amore. In realtà questo gesto d'amore si è trasformato poi in un gesto di gravissimo disagio sia per la famiglia che per i suoi amici, oltre che un dolore immenso. Quindi lo dico a tutti, non pensate che con questo gesto si possa risolvere il problema personale, perché il problema non lo risolvete da un lato, dall'altro date anche un sacco di preoccupazioni e di dolori veramente a chi vi vuole bene. Questo è quello che volevo dire innanzitutto al signor Valerio. Valerio, io vorrei ricostruire un attimino i fatti per come sono andati. Questo ragazzo fino a due anni e mezzo fa era un onesto lavoratore, un ragazzo bravissimo, che lavorava presso una ditta di Ancona, una ditta portuale qui in Ancona. La Bunge, possiamo dirlo. La Bunge, esatto, un'azienda locale. Quest'azienda ha altre sedi, decide improvvisamente di chiudere, per motivi naturalmente aziendali, la sede di Ancona e Lucio rimane sostanzialmente senza lavoro. Entra quindi in cassa integrazione e poi dopo un po' di tempo decide lui stesso di venirne fuori e va in mobilità. Andando in mobilità si presume che abbia un progetto di vita o che voglia comunque cambiare lavoro, che voglia fare qualcosa, comincia a bussare un po' a tutte le porte con i vari curriculum e comincia a sentire picche a destra e picche a sinistra finché appunto non va in depressione. Quando va in depressione il papà si fa interprete di questa situazione perché almeno di questo il papà si accorge che il figlio è in depressione e comincia anche a farlo visitare tra virgolette da uno specialista che dice non preoccuparti perché è un problema solo di depressione basta un semplice calmante per dormire la notte e null'altro. E si va avanti tranquillamente per un altro anno e mezzo circa finché lui riesce a trovare un altro tipo di lavoro per un paio di mesi presso un'altra azienda e poi improvvisamente la tragedia. Allora cerchiamo di ricostruire signor Valerio gli ultimi due mesi in sostanza della vita di suo figlio due mesi che probabilmente non sono stati drammatici nel senso che non ha dato segnali diciamo di quello che poi avrebbe compiuto due mesi dopo quindi che cosa è successo nell'ultimo periodo a Lucio secondo lei signor Valerio? Beh lui si era un pochino chiuso ma non più di tanto con noi stava bene, aveva i suoi interessi i suoi amici anche se li frequentava un pochino di meno però noi non abbiamo capito purtroppo la gravità della situazione perché lui non dava a vedere di essere veramente depresso purtroppo l'abbiamo capito troppo tardi e da qui il messaggio positivo che lei diceva appunto i genitori dovrebbero ecco tirar fuori da queste situazioni drammatiche una soluzione per il futuro perché altrimenti si rischia di non trovare più soluzioni o di trovarle quando è troppo tardi Certo anche perché a volte quando un ragazzo perde la speranza e la fiducia in se stesso non lo fa soltanto perché ha perso il lavoro ma lo fa a volte anche perché intorno a sé non trova magari quello che vorrebbe io da quel cuoricino che ho visto che lui ha lasciato sul messaggio di addio alla propria famiglia c'è proprio il segnale dell'amore perché il cuoricino è un segnale d'amore io lo colgo in questa maniera nel senso che comunque è come un non voler dar fastidio a nessuno è come un direi io me ne vado senza ma non è così che si fa è vero signor Valerio? Certamente e lui ci voleva molto bene e noi volevamo infinitamente bene a lui un rapporto bello tra genitori e figlio in questo caso e purtroppo questo non è bastato e questo è il nostro cruccio appunto di non essere entrati proprio nell'intimo del suo intimo se mi permessa la ripetizione Poi tra l'altro nella conversazione precedente a questa intervista mi diceva proprio la mamma di Lucio che c'è stato un forte abbraccio il giorno prima di questa tragedia che poteva forse anche no essere un segnale ma chi può riuscire a interpretare una cosa del genere se i ragazzi alla fine non si aprono non dicono ai genitori i loro problemi diventa veramente drammatico allora quello poteva essere un segnale ce ne sono stati altri che potevano far capire? Ma quello di avere un pochino non abbandonato gli amici ma di frequentarli di meno questi amici suoi con lui compreso frequentavano un bar qui da Ancona chiamato Il Barretto qua vicino alla facoltà di economia e lui ultimi mesi ci andava di rado e questo poteva essere un segnale ma quando gli dicevamo qualcosa lui diceva non vi preoccupate io sto bene con voi ho il mio computer ho la mia televisione sono appassionato di sport e quindi ci tranquillizzava sempre arriviamo alle 14.30 del 14 agosto la vigilia di Ferragosto improvvisamente si sente uno sparo in realtà è Lucio che va in soffitta decide appunto in terrazzo in terrazzo decide di farla finita e quindi la mamma appena sente questo sparo si allarma sale su e trova il cadavere di Lucio e lì comincia appunto la tragedia perché poi lo si capisce anche da quello che lascia dalle righe che lascia il povero Lucio che lo ha fatto semplicemente perché non si sentiva realizzato e perché la crisi ha provocato anche questo cioè ha provocato il fatto di perdere lavoro non trovare altri lavori non sentirsi realizzati e decidere di compiere un gesto estremo allora appena voi trovate il corpo di Lucio chiamate ovviamente i carabinieri e poi e poi prima di tutto io ho chiamato il 118 perché se ci fosse stato un filo di vita un minimo di speranza un minimo di speranza ho avuto il sangue freddo di correre subito a casa e chiamare il 118 poi gli altri coinquilini i condomini hanno chiamato tutte le forze dell'ordine sono venuti tutti la volante la scientifica la croce rossa la croce gialla eccetera eccetera e purtroppo c'era più niente da fare e che devo aggiungere no no non aggiunga nulla perché la storia è già è stata compresa credo da tutti comprensibile anche naturalmente il suo dolore ma che questo dolore si trasformi in un messaggio ripeto positivo tra l'altro lei ha invitato io questo lo so perché tra l'altro lei collabora anche con la diocesi di Ancona ha invitato anche altre famiglie a essere più aperte verso i figli e i figli verso i genitori sì 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 questo l'apertura il dialogo il dialogo soprattutto tra i figli e i genitori i genitori a volte ci facciamo prendere da tante cose tanti interessi ma i primi interessi sono questi dei figli quindi capirle a fondo dialogare con loro capire anche i sintomi come diceva lei poc'anzi i sintomi di questo malessere che può essere nascosto dentro l'animo del figlio che magari non trapela in superficie però come diceva lei dobbiamo dare un segno di speranza anche da queste tragedie affinché non si ripetano io dicevo prima nella preparazione a questa breve intervista dicevo che la nostra vita adesso è fatta di fede di preghiera e di lacrime appunto la fede ci fa vedere il domani la fede è connessa con la speranza un cristiano come me come mia moglie come lei non si deve mai di sperare perché bisogna sperare al di là di ogni speranza come dice San Paolo e come ripeteva il mio carissimo Giorgio Lapira e poi dico se posso dire anche la mia perché questa commissione si chiama io la penso così dico ai giovani di 31 anni che possono diventare potenzialmente potenzialmente un lucio di domani ecco non arrivate mai a questo gesto anche perché a 31 anni avete tutta una vita davanti che poi sia fatta di soldi di lavoro di bello e di brutto questo fa parte della famosa ruota che gira ma vi perdete l'occasione di vedere nascere il vostro primo figlio vi perdete l'occasione di poter riuscire a compiere qualcosa che nella vita tutti noi facciamo faremo abbiamo fatto cioè la vera vita va vissuta comunque sia senza o con lavoro crisi o senza crisi dico bene signor Valerio è questo il messaggio da lanciare ottimamente e c'è da aggiungere purtroppo che la società malsana fatta male di oggi non parliamo dei politici che è uno schifo totale no la società di oggi non dà un futuro ai nostri figli però ai nostri figli non si devono ugualmente disperare si appoggiano ai genitori agli amici a forme di lavoro magari darsi all'agricoltura per esempio adesso no anche questo molti stanno ritornando all'agricoltura ed è bellissimo anche questo la vita cari ragazzi ecco mi rivolgo in particolare a voi è una sola e va vissuta bene intensamente nella gioia e nella speranza non disperate mai perché ci può essere ci deve essere un futuro per ciascuno di noi e un ultimo messaggio va a Lucio cosa vuol dire il papà di Lucio a Lucio che probabilmente ci sta ascoltando da un altro mondo certamente ma io lo diciamo sempre ogni volta che andiamo al cimitero un giorno sì un giorno no diciamo ti vogliamo bene come prima e più di prima aiutaci prega il Signore che ci aiuti ci assista perché appunto possiamo guardare avanti abbiamo altri due figli e abbiamo la vita davanti anche noi anche se siamo piuttosto anziani però ecco aiutaci ad andare avanti col tuo sorriso con la tua serenità quella serenità che purtroppo non ti ha assistito nell'ultimo giorno allora riepilogando noi ringraziamo ovviamente il Signor Valerio per questa chiacchierata è stato così gentile tra l'altro da ospitarci a casa sua riepilogando quindi non commettete l'errore che comunque va considerato un errore un immenso errore di Lucio cercate di farvi forza non è solo per la crisi o per il lavoro ma è per una serie di motivi che non dovete mai dare dispiacere alle vostre famiglie ai vostri amici posso aggiungere un'altra cosa ragazzi guardate i valori veri della vita non vi fate imbambolare da tante stupidaggini che circolano oggi purtroppo che vi ammannisce questa società dicevo prima malfatta e malsana guardate i veri valori che sono l'amore la fede l'impegno per gli altri la solidarietà l'impegno nel lavoro questi sono i valori veri la cultura la preghiera no? questi sono altre cose sono secondarie sono secondarie quindi non vi fate ammaliare da tante sirene incantatrici grazie a tutti grazie a tutti